uuuuuh ahahahahah 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 non scherzo sto male da una niente ahahahahah guarda che finisce la coraggione tranquilli la porto io ahahahahah ahahah che è successo? che è stato tutti i dittori? non li venivo così appesi no? eccola ditta prossima fermata a Ponte Lungo ahahah 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 poi gliela fa mi sta a salire elettricità con la nautica con la nautica è come ciò